Benvenuti nel cuore di News Mix Up. Prima di svelarvi gli avvenimenti di oggi, chiediamo il vostro sostegno, un semplice gesto, un mi piace a questo video e l'iscrizione al nostro canale rappresentano per noi un segno di importanza immenso. Grazie di cuore. La neomamma, Roberta Morise, oggi, lascia l'ospedale con il suo neonato dopo un parto complicato. I primi giorni sono stati difficili, aveva rivelato il 30 maggio. anno, annunciando la nascita del piccolo Gian Maria. Una complicazione, mai spiegata pubblicamente da lei e dal suo futuro marito, lo chef Enrico Bartolini, aveva generato molta apprensione. Adesso, però, è il momento di gioire. «Il giorno più bello della mia vita, ora posso dirvi che mio figlio sta bene», scrive la conduttrice 38enne sui social. Grazie all'intervento tempestivo dei medici, sia la madre che il bambino sono riusciti a superare tutte le difficoltà. «Questa tempesta passerà presto. Lo meritiamo entrambi. Lo merita il nostro bambino. E così è stato». La 38enne sorride felice e saluta lo staff della clinica Mangiagalli. Roberta Morise torna a casa con il compagno, che sposerà il prossimo 31 agosto in Toscana, e con il loro figlio. Tira un grande sospiro di sollievo e guarda avanti, alla sua nuova vita da mamma, con il cuore pieno di gratitudine. Tutti noi facciamo gli auguri ai neogenitori e al piccolo Gian Maria e ricordatevi di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati gratuitamente. Grazie di cuore. Grazie a tutti.